Un patto che coinvolge quasi mille agricoltori per fare una pasta con grano tutto italiano, ora al debutto sul mercato dopo quattro anni di lavoro. Gli agricoltori aderenti seminano specifiche varietà di grano duro selezionate e le coltivano secondo uno specifico disciplinare in un processo produttivo che, nel rispetto dei protocolli e con l'assistenza di agronomi, ha permesso in quattro anni di aumentare notevolmente la resa. Un sogno inseguito dai tanti mangiaspaghetti che, proprio nel piatto simbolo del bel paese, la pasta asciutta, non si rassegnano alla dipendenza dalle culture estere e vogliono promuovere il vero made in Italy per il quale sta lavorando anche Barilla con diversi accordi di filiera. Ma oggi è il mezzogiorno a presentare i risultati di un processo di innovazione frutto di una comunità di produttori di pasta grano Armando fatta solo con grano duro italiano con un alto contenuto proteico, minimo 14,5% rispetto ad un valore minimo stabilito dalla legge del 12,5% ed un alto indice di glutine, valori essenziali per la tenuta di cottura. Questa pasta viene trafilata al bronzo, essiccata lentamente e debutta con 3,5 milioni di confezioni, 1.600 punti vendita in Italia e 11 paesi esteri. L'accordo di filiere è stato sottoscritto il 3 ottobre scorso nello stabilimento De Matteis Agroalimentare di Flumeri, in provincia di Avellino. Coinvolge 940 agricoltori con un totale di 10.120 ettari coltivati in nove regioni, Puglia, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Monise, Toscana, Umbria e Marche. Alla presenza del Vice Ministro alle Politiche Agricole, Andrea Olivero, che ha sottolineato come la valorizzazione di ogni competenza lungo la filiera genera sul territorio ricadute positive di carattere sociale ed economico, rappresentando concretamente una valida strada da percorrere nella creazione di un nuovo modello di business sostenibile e all'avanguardia.